ciao ragazzi benvenuti in un'altra puntata un altro mercoledì dedicato al retro gaming io sono sempre illy finalmente ho la mia tutta d'ordinanza per il periodo autunno inverno primavera accantoniamo un attimo dos con solo 8 bit e playstation 1 playstation 1 perché perché i giochi per master system li ho quasi finiti ne ho provati un paio ma non mi sono piaciuti prima di registrare quindi ho pensato no mi dispiace davide ma magari farò un rush finale ma farò una puntata unica provando un po qui 4 5 che mi sono rimasti più o meno il megadrive ce l'ho non lo vedete ma insomma un po faticoso da tirar fuori col dos ho avuto da litigarsi un attimo perché ve lo spiegherò in qualche retroscena e loro pensato ma restiamo nella comfort zone di playstation 1 che io e mio fratello abbiamo bramato proprio qui era il gioco in Ridge Racer l'avete già visto forse dalla thumbnail se mi sono ricordato di farla e direi di partire subito ok sembra un po di benissimo playstation 1 perché abbiamo bramato tantissimo il mio fratello per averla e all'epoca lavoricchiavo ancora quindi non avevo tutta questa possibilità economica quando abbiamo presa quando alla fine sono andato prendere una nota catena di elettronica diciamo famosa nota catena di elettronica che c'è ancora tutt'oggi sì perché non è detto e insomma vado per in realtà dovevo andare a prendere è un po' decentrato dovevo andare a prendere death rally e ho visto la playstation e l'ho presa non avevo preso Ridge Racer ho preso Wipeout 2097 ma sono così scarso non ve lo faccio vedere faccio partitina Ridge Racer il primo io sono grandissimo amante del eccezionale mai giocato in sala giochi ho scoperto dopo che c'era anche in sala giochi io ho grandissimo fan di Ridge Racer 5 per playstation 2 ma sono un po' troppo alto sì 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 il 5 mi piace tantissimo per la playstation 2 con tutti i suoi limiti tecnici secondo me è bestiale infatti magari farò un long play dove farò vedere tutto il mio amore per quel gioco ah io prendo questa qui che è un po' generica automatica perché beginner mid level high level tt devo dire troppo tosto probabilmente vorrà dire tt no no facciamo beginner che siamo già abbastanza giri veloci ah le mie memorie card sono là sopra ne ho alcune però vabbè va bene insomma credo che non avevo bisogno di presentazioni Ridge Racer grandissimo gioco di guida molto arcade della Namco un po' alti volumi mio ok ma partenza è proprio incredibile allora playstation innanzitutto playstation ma sapete che sta grafica è proprio bella adesso già già allora all'epoca era proprio il salto dal 2d al 3d e se vogliamo magari si considerare 3d alcune cose fatte con dei chip aggiuntivi di super nintendo e mega drive tipo lsvp della sega e il super fx della nintendo ma però questo è proprio un vero 3d abbastanza fluido anche ok perché sì quindi arcana quelli andavano abbastanza 10 15 no tal svp di virtuoress in un po di più ma adesso qui siamo veramente a 50 fotogrammi al secondo perché la console pal voi forse lo vedete un po a meno ma comunque eccezionale e poi questi poligoni non perfetti con questi punti bianchi queste non con perfettamente coincidenti sono bellissimi queste texture che da quanta nostalgia la prima playstation bella curva bravo la prima playstation non è non aveva ancora il discorso dell'analogico questo è il dualshock non so mai che sia un dualshock si dal peso sì perché non esisteva neanche il dualshock comunque ne parlerò più avanti durante questo questo rush finale di questi video prima della fine dell'anno e voi sapete che di solito benissimo giorno voi sapete che di solito dicembre il mio canale diventa patria delle msx ma vediamo insomma se anche quest'anno lo sarà e basta insomma sono quindi super arcade bellissimo Ridge Racer a me noi abbiamo preso il Revolution mi pare giapponese credo che sia solo giapponese e abbiamo preso Rave no Rage Racer giusto Rage Racer e poi Ridge Racer Ridge Racer Type 4 secondo me è più bello Ridge Racer Type 4 che ha una storia dietro durante la gara che è molto più profonda di quanto possa sembrare eccezionale dai facciamo finto di essere bravi no ho tagliato troppo mamma mia che scarso è perché tra l'altro bella questa macchina che in sesta fai 162 km orari vabbè mica male tempone yeah tempone incredibile insomma a me piace comunque sta questa grafica molto semplice noi su DOS avevamo Screamer che l'avevo già portato c'è un abbozzo di Speed Core ma molto soft però c'è fare un po' di airbanging ma non mi sembra il caso la mia età poi mi si cricca la cervicale ragazzi signora mia è un disastro qua best lap 1.31 c'è il replay con questa però magari possiamo anche evitare facciamo un'altra curse facciamo il mid level dopodiché vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un altro video sempre ovviamente adesso faccio fuori la playstation 1 ma questa roba qua di partire da ultimi non mi è mai piaciuta più di tanto però è bellissima questa grafica è una cosa molto fa lo stesso effetto del Master System ma siamo un po' più velocelli però esatto perché mi dava 200 kg motorolari di velocità massima quindi in realtà la difficoltà è solo per il che la pista mi parla sempre quella però siamo al tramonto attenzione oh bellissimo voi l'avevo detto anche meglio di me qui facciamo dirapone più o meno mamma mia devo prendere un travel loom si diceva travel loom non so se ve lo ricordavate no è perché ho fatto la cura in maniera pessima non sono anche dimenticato cosa stavo per dire ma sono sicuramente niente di importante qui devo prendere il punto di corda giusto che non ho fatto un colpetto di freno eccezionale no no a me questa grafica piace tantissimo mi fa lo stesso effetto della grafica e soprattutto dell'audio del Master System tanta nostalgia anche per la playstation 1 ragazzi è stato un po' sebbene abbiamo già il tempo variabile molto prima di... guardate bisogna vedere il tempo variabile fantastico non potevate non emozionarvi a vedere sta roba no? non si poteva infatti mi sto emozionando anche guardate le luci accese dell'albergo in arriva al mare fantastico tempo esteso qui vorrei evitare di fare la derappata perché prima ho fatto schifo e non è che facendola non derappando in realtà sia andata tanto meglio un elicottero bassino velocità più alta quindi salto la macchina salta attenzione qua le sospensioni non gradiscono tanto sosteggiamo un po' no niente niente ho sbagato non ho impostato bene la curva quella è abbastanza difficile se non... soprattutto dopo anni che non la si gioca quindi si è proprio bello si 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 e Ridge Racer 5 invece su playstation 2 quello mi fa ancora più effetti dai dai lui mi vedete sempre calmo e tranquillo in realtà e poi si questi poligoni tremolanti c'è un bellissimo video su youtube che spiega il perché dei poligoni tremolanti ed è tutto legato al fatto che la playstation 1 non ha un'unità di calcolo in virgola mobile oppure a doppia precisione o cosa del genere ha qualcosa a che fare con... buona questa, ottima qualcosa a che fare con appunto la burka che qua sarebbe stato dentro l'elicottero totale che è un incosciente mettersi a... praticamente cos'è? due centimetri dall'asfalto, guarda, guarda e il discorso che... eh questa è impostata bene, visto? perfetta, in pieno, giù tutto, giù tutto il piede, in realtà giù tutto il pollice e ha a che fare con, non mi ricordo, se l'unità è in virgola mobile che manca o se è in singola precisione o non in doppia precisione io non capisco un accidenti di tutto ciò e quindi c'è questo effetto tremolio, questi poligoni che non sono... vedete qui, sulla montagna, no? sono di puntini bianchi che stanno proprio... dovete stare un po' attenti eh anche no fra la strada e il coso, beh... però tanto amore per playstation 1 e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un altro video, sempre ovviamente sulla play 1 e vediamo di cosa sarà soprattutto e... ciao!